La tracheotomia è un intervento molto semplice, che però richiede una gestione complessa, in quanto impatta pesantemente sulla vita del paziente, sia dal punto di vista fisico, cambiando completamente il modo di respirare e talvolta impattando anche sulla deglutizione, sia dal punto di vista psicologico. Per cui è importante che a questo intervento segua una gestione della persona che lo subisce multidisciplinare, che vada dall'ospedale, dove la procedura viene realizzata, fino al territorio, che è il compito di prendere in carico e seguire nel tempo queste persone. Con il congresso di oggi cerchiamo di fare un po' il punto della situazione, presentando i punti di vista dei vari professionisti coinvolti nella gestione di questi pazienti e anche di informare chi volesse seguirci durante questi lavori su cosa facciamo e come viene gestito questo intervento. Grazie. Grazie. Grazie.